Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia e con Fantasiastore.it dove se inserirete il codice ARCONT del Crogiolo19 riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Sono tornato dalle vacanze e con me è tornato anche un nuovo episodio di Was. Non voglio perdermi in chiacchiere, anche perché da un bel po' che non porto un video sul canale e quindi vi mando direttamente alla sezione unboxing. Eccoci qua. Allora, oggi copertine rosse in onore di Casata Brobnar. Andiamo subito a vedere cosa ci aspetta. Sanctum Selvagi Brobnar. Babuni Iena, dimostratore della poesia. Tre casate molto forti, quindi sono veramente molto curioso di vedere cosa ci aspetta. Allora, prendiamo subito l'arconte, imbustiamolo. Perfetto, lo mettiamo qui. Allora, iniziamo, vediamo qual è la prima casata. Brobnar, 1-2. Il gioco stordisce una creatura nemica, se quella creatura era già stordita distruggila invece. Ok, ci dà un'ambra. Bingle Bang Bang. Per combattimento fa 5 danni a ogni vicino, nella creatura che attacchiamo. Baraciola. Non male come carta. Polverentola. Oramai è diventato un classico. Ogni volta che sbusto un mazzo Brobnar ho Polverentola e Baraciola in combinazione. Due Polverentola. Capotribù Ganger. Ottimo. Perfetto. Sempre benvenuto al Capotribù. Grogins. Quando Grogins è utilizzato per combattere può attaccare solo le creature su un fianco. Grok. Combattimento il tuo avversario perde un'ambra. Nella mischia. Per il resto del turno una creatura Brobnar amica ottiene combattimento. Ripristina questa creatura. Non male. Vediamo eh. Due nella mischia. Va bene. Lollop il titanico. Non infligge danni quando è attaccato. Ultima carta di Brobnar. Squillo di corno. Sempre un azzardo utilizzare squillo di corno ma a volte può salvare la situazione. Sicuramente una sezione Brobnar pesante. Molte creature con 5 o più di forza. Molto pesante. Ha ben una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto creature di cui 7 creature hanno 5 o più di forza. Pesante come sezione Brobnar. Molto buono. Vediamo la prossima. Sanctum. Bautrem e Leone. Che ha provocazione. Anzi schieramento, non provocazione. I vicini di Bautrem e Leone ricevono più 2 forza. Abond forgiascudi. Le creature amiche ricevono più un'armatura e in azione per il resto del turno le altre creature amiche ricevono più un'armatura. Auba del Fosco. Questo è un bel dito dove dico io. Perché praticamente cattura 3. Ambre dell'avversario ogni volta che raccoglie ne scarta una. Quindi andiamo veramente a rompere le scatole al nostro avversario. Due Auba del Fosco. Wow. Wow. Luce accecante. Scegli una casa, stordisci ogni creatura di quella casa. Due luce accecante. Bordan in redento. Con azione cattura 2 ambre. Catturiamo parecchio in questa sezione Sanctum. Shalle la protettrice. Schieramento e provocazione. Buono. Ottimo. Aura dorata. Scegli una creatura, cura completamente la creatura scelta. Per il resto del turno la creatura scelta è considerata come se appartenesse alla casa Sanctum e non le vengono inflitti danni. Combattiamo tantissimo con questa prima sezione che abbiamo scoperto. Castigori. Pristina una creatura amica e combatti con essa. Infliggi due danni ai vicini della creatura attaccata. Non male. Cavaliere grigio. Che ha schieramento. Gioco combattimento raccolto. Può ripristinare una creatura vicina e combattere con essa. Buono. Ultima carta di casa Sanctum. Vimos araldo di luce. Distrugge ogni creatura con illusione. Ottima. Ottima. Ragazzi, sono pesantissime queste prime due sezioni. A livello di creatore sono pesantissime. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Altre otto creature. Andiamo a sedici anche. Wow. Vediamo adesso l'ultima casata ovviamente. Selvaggi. Darna. Ottiene un'ambra per ogni creatura amica danneggiata. Vedendo quello che abbiamo visto sicuramente non sarà un problema. Poi di raccolto cura due danni a una creatura amica. Due Darna. Buone. Queste vanno a dare supporto di ambre al mazzo. Guardiano del boschetto. Alla fine del turno metti un segnalino più uno forza su ogni creatura vicina. Così almeno andiamo a rafforzare come se non bastasse. Nox. Perfetto Nox. Una creatura da nove ogni tanto mi manca. Sciamme di Marmott. Lo sciamme di Marmott riceve più uno forza per ogni ambra nella tua riserva. Ottimo. Può andare a otto massimo. Perfetto. Dovesse l'avversario usare miasma. Insomma utilizziamo una otto che non è male. Caccia ostinata. Scegli una casa e sorrisci ogni creatura nemica della casa scelta. Buona. Mordi Ruggine. Mordi Ruggine è buonissimo per distruggere gli artefatti avversari. Soprattutto quelli che rompono le scatole. Se ne escono due. Perfetto. Canto di Primavera. Rimescola nel tuo mazzo un qualsiasi numero di creature selvaggi e amiche dalla tua mano, dalla tua pila degli scarti o dalla linea di battaglia. Buona. Sì, anche perché abbiamo parecchie creature fino ad adesso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Questo mazzo ha tantissime creature. Veramente tante. Cagnaccio Emberspina. Buono. Veramente una spina nel fianco. Rampicanti afferranti è ottimo. Così almeno rimettiamo gli artefatti nelle mani del proprietario. Due rampicanti afferranti. Ultima carta di casata selvaggi. Tigre possente. Infliggi quattro danni e una creatura nemica quando la giochiamo. Buona. Buona. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Otto, sedici. Ventiquattro creature all'interno di questo mazzo. Se non mi sbaglio. Sono otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Dici, dici, sette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro. Ventiquattro creature all'interno di questo mazzo. Sono veramente grosse come creature. Davvero grosse. Per divertimento questo mazzo io lo porterei. Per divertirmi in un torneo minore questo mazzo lo porterei. Solo per divertirmi però. Devo studiarlo meglio. Sicuramente in fase di sinergia riuscirò a trovare qualcosa di interessante. Per divertimento è un ottimo mazzo. Veramente. Per divertimento è un ottimo mazzo. Babuni Iena, dimostratore della poesia. Ottimo. Passiamo in fase analisi. Eccoci su Chi Forge Italia per andare a vedere la scheda del mazzo Babuni Iena dimostratore della poesia. Le info generali, già l'abbiamo visto nell'unboxing, voglio ripeterlo, ci mostrano che le tre casate sono Brobnar, Sanctum e Selvaggi. Invece nelle statistiche generali possiamo vedere che abbiamo 12 azioni e ci troviamo al di sotto della media. Zero artefatti, sempre al di sotto della media. 24 creature, come abbiamo detto in sezione unboxing. Ci troviamo ampiamente al di sopra della media. e zero migliorie, ci troviamo poco di sotto la media. Invece in rarità di carte abbiamo 30 carte comuni e come per le creature ci troviamo ampiamente al di sopra della media. Due carte rare, ci troviamo di poco al di sotto della media. Quattro carte non comune, ci troviamo al di sotto della media. Quindi è zero carte speciali, perfettamente in media. Andiamo a vedere l'ember bonus. Abbiamo un ember bonus totale pari a 8. Non posso lamentarmi, visto che abbiamo una presenza a borde imponente, quindi ci troviamo poco al di sotto della media, visto che la media di solito 10-11. È un valore più che giusto per un mazzo del genere. Andiamo a vedere il controllo del campo. Abbiamo una forza media pari a 4,13 e ci troviamo al di sopra della media. Questo sta a significare ed è una conferma che questo mazzo è davvero molto forte a livello di campo. È un'armatura pari a 0,25, un'armatura media pari a 0,25 che ci posiziona al di sopra della media, che di solito troviamo all'interno di un mazzo. Andiamo a vedere più nel dettaglio come si comporta questo mazzo e andiamo a vedere se è un lockdown, un ember rush oppure un synergy. Da quello che ho potuto vedere sicuramente si avvicina molto di più al lockdown più che alle altre due tipologie di mazzo. Quindi in rimozione creatura possiamo vedere, per quanto riguarda la sezione singolo, un 1-2, un tigre possente e per quanto riguarda il rallentare, quindi troviamo sia in sezione rimuovere che in rallentare un 1-2. Per quanto riguarda invece le rimozioni multiple abbiamo Vimos, araldo di luce, che va praticamente a sterminare ogni creatura con illusione, quindi abbiamo un valido alleato contro mazzi che giocano ombre. In infliggere danno abbiamo un bingol bang bang, un baraciola e un castigo. Mentre per rallentare a livello multiplo le creature del nostro avversario abbiamo due luce accecante e una caccia ostinata. Per quanto riguarda la sezione rimozione artefatti, in singolo abbiamo il mordiruggine, mentre in sezione multiplo possiamo rallentare gli effetti degli artefatti avversari grazie ai due rampicanti afferranti. In modificatori abbiamo un bautrem meleone, un abond forgiascudi, il guardiano del boschetto, il nox e lo sciame di marmot. Mentre in cura, sezione cura, abbiamo un aura dorata e le due darna. In controllo ember, quindi entriamo nella sezione controllo e questo ci avvicina sempre di più a un mazzo lockdown. Abbiamo due polverentola, due darna, un mordiruggine e un cagnaccio emberspina. Ricordare che il mordiruggine ci dà un'ambra soltanto se l'artefatto che andiamo a distruggere ha un'ambra stampata, altrimenti nisba. Il controllo ember avversario invece abbiamo nella sezione cattura due auba del fosco che sono davvero fastidiosi se giocati soprattutto insieme e un bordan in redento. Calcolate che se il nostro avversario cecca e ha sei ambre con due auba del fosco praticamente lo riportiamo a zero. E nella sezione perdi, quindi le ambre che facciamo perdere al nostro avversario, abbiamo un grok e due auba del fosco ovviamente perché ogni volta che auba del fosco va a raccogliere scartiamo una delle ambre che abbiamo catturato dal nostro avversario. In efficienza non abbiamo nessuna carta a livello di archiviare controllo chiave e controllo del turno del nostro avversario, mentre nella sezione vantaggio carta abbiamo lo squilo di corno che deve essere giocato sempre con cautela altrimenti rischiamo di farci davvero male. Mentre per quanto riguarda il controllo del proprio turno, quindi il nostro turno, abbiamo il capo tribuganger che ci ripristina una creatura, il due nella mischia, un bautremonti il leone, una scialla e la protettrice, un aura dorata, un castigo e un cavaliere grigio che praticamente ci danno una mano per ripristinare le nostre creature e andarci a combattere e quindi controllare il campo del nostro avversario. Quindi sicuramente questo qui è un mazzo lockdown, nient'altro. Il mazzo è composto da Abondforge a scudi, due auba del fosco, un aura dorata, un bautrem milleone, un bordan e il redento, un castigo, un cavaliere grigio, una scialla e la protettrice, due luce accecante e un vimos araldo di luce. Per quanto riguarda la sezione brobnar abbiamo un baraciola, un bingol bang bang, un capo tribuganger, un grogins, un grok, un lollop e il titanico, due nella mischia, due polverentola, uno squilo di corno e un 1-2. In sezione selvaggi abbiamo una caccia ostinata, un cagnaccio emberspina, un canto di primavera, due d'arna, un guardiano del boschetto, un nox, un mordiruggine, due rampicanti afferranti, uno sciame di marmot e un tigre possente. Certamente è un mazzo lockdown che punta più sul controllo della bordo del nostro avversario più che andare magari a fare una chiave in terzo turno, quindi 100% lockdown questo mazzo. Passiamo in sezione sinergie. Con questa combinazione di carte potrai usare bingol bang bang in tutto il suo pieno potenziale, infliggendo 5 danni da effetto a creature fastidiose che hanno illusione o pericolo. Repristinando bingol bang bang con castigo e combattendo con esso potrai infliggere 7 danni invece che 5 alle creature vicine delle creature attaccata. Repristinando baraciola con castigo dopo che baraciola ha già combattuto potrai infliggere 6 danni invece che 2 alle creature vicine della creatura attaccata. Repristinando baraciola con nella mischia dopo che baraciola ha già combattuto potrai infliggere fino a 12 danni invece che 2 alle creature vicine della creatura attaccata. Repristinando lolop il titanico con nella mischia dopo che lolop il titanico ha già combattuto potrai infliggere danni fino a 6 volte in un turno o fino a che lolop non muore alle creature nemiche. Grazie per la visione ci vediamo al prossimo video. Ciao!